Orrore in adigetto, sono stati trovati pezzi di cadavere, è una notizia preoccupante? Secondo te il Polesine potrebbe essere una terra in cui si consumano altre tragedie? Speriamo di no, non è la prima però che sentiamo, è successo anche in passato, però bisogna sempre capire il perché sta succedendo ciò e spero che la polizia risolva il problema. E' una cosa che è stata trovata inaspettatamente e vuol dire che quella persona che ha commesso l'omicidio piuttosto che il dismembramento, quello che è, è ancora in circolazione e potrebbe essere anche qua tra di noi, perché siccome è stata una sorpresa di per sé trovare un cadavere smembrato dentro dei sacchi in adigetto, vuol dire che non è mai stato scoperto, quindi in primi smette inquietudine questo perché chi è questa persona, in secondi smette inquietudine il fatto che potrebbe essere tranquillamente qua tra di noi. Beh, insomma, eventi tragici a Rovigo sono stati anche in passato, che si trovano dei resti mani anche recenti nei pressi di Rovigo, vicino all'Adigio o all'Adigetto, non è la prima volta che succede, anche in passato episodi del genere si sono verificati. Io bisogna che gli inquirenti si adattino a cercare l'origine di questi resti umani, però la faccenda non mi stupisce più di quel tanto, in una grande città eventi del genere possono essere più frequenti, però in Italia, in un paese, in una città come Rovigo forse sono più rari, però non sono improbabili perché le cause possono essere molteplici e speriamo che indaghino bene. Allora, effettivamente sono delle notizie che non si vorrebbero mai sentire perché comunque trovare una persona morta dà sempre preoccupazione, poi speriamo che giustamente ci sia una giustizia in merito, venga trovato chi è il colpevole del tutto e che paghi per il reato che ha commesso.